KG Mobility è il consorzio coreano che ha rilevato Sangyong e questo è il SUV Torres, uno dei prodotti di KG Mobility. Look aggressivo, forme squadrate, tanto spazio a bordo. Adesso lo scopriamo insieme su Terzo Garage. Grazie alla concessionaria Cuneo 3 di Cuneo per aver prestato questa Torres a Terzo Garage. Il design particolare di questa Torres si nota già a partire dal frontale, molto massiccio, imponente, praticamente disposto su tre livelli. Abbiamo queste sei feritoie in alto, sopra la calandra, che è una grande presa d'aria per il radiatore, e sotto questa specie di skid plate cromato, diciamo, che viene ripreso dall'estrattore al posteriore. La fanaleria, gruppi ottici scenografici piuttosto avvolgenti, full led, anche i fari posteriori sono full led, su questa versione, su questo allestimento che è l'Icon, il top di gamma, dove sono presenti di serie i cerchi da venti pollici. Eccoci sulla KG Mobility Torres. Questo SUV di grandi dimensioni, o perlomeno media, 4 metri e 70 di lunghezza, quindi tanto spazio a bordo e subito un'impressione di qualità. Una plancia intanto molto lineare, dove non c'è la palpebra del cruscotto, perché il cruscotto è integrato nella stessa plancia digitale, e abbiamo un 12 pollici praticamente, con tutte le informazioni quelle del rapporto del cambio automatico. Un cambio automatico su queste sei rapporti. Siamo sull'allestimento Icon, top di gamma, quello base si chiama ROD e poi c'è il DREAM, l'intermedio. L'Icon ha di serie la trazione integrale, quattro ruote motrici e il cambio automatico. Invece sulla DREAM si può scegliere e sulla ROD abbiamo le due ruote motrici col cambio manuale. Un'impressione anche piuttosto immediata appena salito sull'auto era quella di avere magari a che fare con una macchina un po' pachidermica, una macchina molto grande, quindi avrebbe potuto essere lenta, diciamo. Invece mi rendo conto che se voglio andare a premere, la macchina scatta piuttosto bene, anzi devo dire che forse è un leggero lag all'inizio, ma proprio perché capisce l'intenzione mia di andare più veloce, il cambio automatico si adatta e subito abbiamo uno scatto molto buono. Mi sembra che KG non abbia comunicato il valore dello 0-100, ma siamo intorno ai 10 secondi, probabilmente meno che per una vettura di questo tipo, che non è una macchina sportiva, mi sembra un valore più che accettabile. La buona trazione è merito del 1.5 benzina a quattro cilindri da 163 cavalli e 280 Nm di coppia, l'unica motorizzazione disponibile al momento in attesa dell'arrivo della versione completamente elettrica. Secondo alcuni, diversi particolari di design di questa Torres sono ripresi da altri modelli dello stesso segmento. Secondo altri, così come le note della musica sono sempre sette e a volte in canzoni diverse si ripetono, qui sarebbe successa la stessa cosa. Ho detto che secondo me l'auto è comunque riuscita dal punto di vista estetico, comunque equilibrata e piacevole da vedere. Sotto i fendi nebbia partono le protezioni di plastica grezza che in pratica vanno a incorniciare tutta la parte bassa dell'auto, dando anche una impressione, diciamo, un feeling di off-road. E in effetti affrontare percorsi fuoristrada con questa Torres non è un problema, anzi, soprattutto quando abbiamo la trazione integrale come su questo allestimento Icon. Il portellone posteriore presenta questo grande rigonfiamento che ospita la telecamera di retromarcia e ha l'apertura servo assistita. Dentro è molto ampio, capacità di 703 litri che diventano 1.662 abbattendo gli schienali posteriori divisi 60-40. La cappelliera può essere, come vedete, retratta molto facilmente. Il piano di carico è praticamente piatto. Abbiamo delle tasche qua laterali. Ancora, qui sotto, se riesco a farvela vedere, c'è la ruota di scolta. È molto facile entrare e accomodarsi sui sedili posteriori. Questa Torres ha davvero tanto spazio, sia per la testa è alta 1,72, questa macchina, sia per le ginocchia, questo sedile settato sulla mia altezza, sedile anteriore di 1,90. Comodi i sedili e gli schienali. Qui sicuramente tre persone, tre adulti, viaggiano bene. Abbiamo anche le bocchette del clima e una, anzi, una doppia presa USB-C per, anzi USB normale, scusate, per caricare i cellulari. Per chi ha dei bambini piccoli e deve agganciare i seggiolini, gli attacchi Isofix sono qua sotto. Non riesco a farveli vedere, ma sono facilmente raggiungibili. Basta davvero infilare il gancio del seggiolino. E KG Mobility chiama questa pelle dei sedili pelle vegana. Altro elemento, a mio giudizio, positivo, la, chiamiamola, rigidità del volante. Non è un volante molle, è un volante che ha un giusto compromesso tra la precisione e la comodità. Ecco, questo. Tra l'altro, una forma anche abbastanza particolare, con un quattro razze un po' strano. Su quelle più alte sono disposti tutti i tasti per il settaggio degli ADAS. Qui abbiamo controllo, scusate, centraggio di corsia, cruise control adattivo, retrocamera di parcheggio e molto altro. E abbiamo anche un sistema anti-ribaltamento, che per un'auto di questo tipo è molto importante. Soprattutto quando io dovessi trovarmi ad affrontare qualche ostacolo in strada e dovessi improvvisamente sterzare, la macchina è un sistema che riesce a evitare che io mi ribalti. La finestratura, molto ampia, consente di avere ben chiari gli ingombri della macchina, quindi anche facendo manovra. Poi, chiaro, con le telecamere questo è ancora più... è un compito che ci viene ancora più facilitato. Macchina piuttosto importante, ma un impianto frenante decisamente buono. Io adesso mi fermerò, sto inchiodando. Un pochino, ovviamente, di beccheggio, ma la macchina si ferma bene, non si scompone. Questo è molto importante e dà una buona impressione di sicurezza. Su questa Icon, con il cambio automatico, abbiamo anche la possibilità di andare a cambiare marcia con le paddle al volante. Con questo tasto sulla razza destra del volante, io vado a attivare le diverse impostazioni dell'auto. Vedete? Driving Assist, Dice for Setting, Sound, Convenience. E da qui, poi, sempre con i tasti del volante, posso andare a cambiare questi parametri. Luci, eccetera. Il navigatore, per le mappe, sfrutta i dati presenti in questa schedina fisica, che per qualcuno potrebbe significare un ritorno al passato. Per me, invece, è una comodità. Qui non abbiamo necessità di fare aggiornamenti lunghi, online, eccetera. Scarichiamo, ad esempio, la cartografia nuova sul computer, la mettiamo sulla schedina e la mettiamo qui. E siamo a posto. Per la gestione del climatizzatore, che è un climatizzatore bi-zone, abbiamo questo secondo schermo al centro. Possiamo andare a impostare, vedete, la temperatura sia del passeggero sia del conducente. Possiamo andare a intervenire sui sedili che sono sia ventilati sia riscaldati. E poi possiamo anche andare a bloccare il differenziale. Qui abbiamo detto, scusate, sulla Icon abbiamo le quattro ruote motrici. E qui abbiamo il blocco a differenziale. È vero che, messo qui, magari sembra strano, però è facilmente raggiungibile, quindi è anche comodo da utilizzare. Cerchi un'auto nuova o usata? Prova il nuovo portale autoheat.it oppure scarica l'app. Ci sono anche gli accessori. Autoheat.it I consumi dichiarati vanno tra gli 8 e i 9 litri per 100 km nel ciclo misto. I prezzi di listino partono per la ROD, la base, che comunque è già abbastanza ricca, da 31.900 euro. Con il TORES è tutto, spero il video vi sia piaciuto, magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima, buoni chilometri a tutti! Ciao, io. Grazie a tutti.